Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, è ufficialmente iniziata la mia carriera con il Milan, ve lo dico, ve lo anticipo, su FIFA 21. Questa carriera va in live su Twitch, praticamente non dico tutti i giorni ma quasi, devo ancora decidere. E il meglio della live su Twitch la monterò e la caricherò qui su YouTube. Quindi se volete che io continui ad aggiornarvi qui su YouTube lasciate un like, lasciate un like così io capisco e quindi poi faccio effettivamente tutti i vari episodi. Se invece non vi interessa non mettete like. Quindi se volete vedere queste live dal vivo mi raccomando seguitemi su Twitch, Daniele Brogna ha scritto tutto unito. Se invece vi basta vedere queste pillole su YouTube, nulla, lasciate il like così io capisco. Vi avviso che non so come funzioni, io so che ci sono diverse novità, però non ho visto nessun gameplay di altri colleghi. Scarichiamo le rose più recenti. Allora, tecnico ovviamente, essendo io un tecnico direi tecnico, poi avremo modo di fare anche quella da giocatore. Qui non vedo grosse novità. Io ragazzi voglio essere questo, questo centrale sportivo un po' brizzolato, un po' come me. L'altra volta, se non sbaglio, abbiamo preso il Daniele Brogna. Questa è la parte più noiosa ragazzi, ammetto, perché... Signori, io opto per le isole vergini americane, che grazie a me non saranno più vergini. Ma io terrei anche la maglie... Ah, così? Siamo più fashion? I pantaloni secondo me ci stanno rosa. Sulle isole vergini americane il rosa va fortissimo. E la cravatta gialla, in onore ovviamente del buon Adrianone Galliani. Qui verde, non si vede, ma sappiate che i calzettini li ho verdi. E le scarpe direi sobrie, sobrie queste qua, bianche a punta. Io direi come prima cosa, come facciamo sempre, andiamo nel lab della Rose e capiamo se dar via qualcuno. Anche qui vedo cose nuove. Gigio, io lo terrei. Il signor Antonio Donnarumma, ragazzi, io per l'ennesimo anno so già che non se ne andrà, però io ci provo ogni volta. E quindi lo metto nella lista trasferimenti e nella lista... Ah, solo trasferimenti? Ok, volevo fare una cosa. Vabbè, solo trasferimenti, va bene. Tattarusano rimane, Ternandez rimane. Mattia Caldara quindi è in prestito? Vabbè, lo lasciamo lì in prestito. Musacchio, signori, sarò spietato, ma io lo metto nella lista. Trasferimenti? Non lo voglio, Musacchio. Duarte? Ragazzi. Lista trasferimenti anche lui. Il signor Bellodi? Prestiti. Lista prestiti, voglio che vada a farsi le ossa. Gabbia, signori? Io lo darei in prestito, non voglio cederlo. Lo darei in prestito perché io sinceramente lo farò giocare col contagocce. Quindi vai in prestito, Gabbia, vadi, vadi. Romagnoli rimane, Chier ovviamente rimane. E poi qui dobbiamo decidere, signori, tra Conti e Calabria, chi dare via. Conti, ho deciso. Conti, lista trasferimenti. Calabria è più da... Visto che voglio giocare con i quattro difensori dietro, vedo più adatto Calabria. Poi c'è pure Calulu. Poi vediamo dove intervenire, ragazzi. Per adesso è solo un'infarinatura generale della squadra. Tonali, lo voglio dar via. Lista trasferimenti. Sto scherzando, sto scherzando, signori. Tonali è incedibile. Benna sera incedibile. L'Axalt è ancora... Ancora sei qui. Ti abbiamo ceduto nella vita reale. Ancora sei qui. Via. Lista trasferimenti anche tu. Via dalle balle. Krunic, ragazzi, non mi piace. Non mi piace. Quindi lista trasferimenti anche lui. In effetti la sto stravolgendo. Ma Paqueta, qui sei ancora. Ma ti abbiamo dato via a Lione perché sei qui. Io glielo dico sempre. A Paqueta, sei col Lione. Sei col Lione. No, col Lione. Ragazzi, non l'ho insultato. Ho detto sei col Lione. Ma siete veramente, guarda. Pensate sempre al male. Al Milan ha fatto male. Però Paqueta è un grande col Lione. No, dico col Lione. È un grande... Va, va. Va, non fa più ridere. Basta. Maldini rimane. Alilovic. Veramente tu sei ancora qui. Lista trasferimenti di Alilovic. Io, ragazzi, Castiglieco non ce la faccio a tenerlo. Eh, lo so, lo so. Non ce la faccio. Piuttosto mi tengo Salemakers come sostituto. E poi qui in avanti voglio prendere un bel esterno offensivo. Anche perché piuttosto, se non riesco a prendere nessuno, ci adatto Braim Diaz che mi ispira di più. Cialanoglu ovviamente rimane. Braim Diaz rimane. Salemakers rimane. Ibra ovviamente rimane. Rebic. Colombo. Colombo sarei... Leao rimane. Colombo sarei quasi tentato a darlo via in prestito, signori. Prova a darli in prestito, dai. Poi rinnoviamo sicuramente, sia... Proviamo a rinnovare sia Gigio che a Cialanoglu. Continuiamo con questo. Io vi ripeto, non voglio stravolgere più di tanto la squadra. Quindi per adesso questo 4, 2, 3, 1 potrebbe anche andarmi bene. Ma qui devo svolgergli gli esercizi o no? Perché un ragazzo mi ha detto, Dani mi raccomando, almeno la prima volta gli esercizi falli. Poi dopo puoi simulare. Inizialmente però devi farli. Vabbè li faccio, li faccio, li faccio. Dai, facciamo le cose bene ragazzi, dai. Svolgi il prossimo esercizio. Spero che non siano mille però, eh. Altrimenti mi rompo le palle e stacco tutto. Devo andare qua io. Wow. E ora devo tirare? E ora? Devo tirare? Ragazzi ma è semplicissimo. Ma che faccio? Ah cazzo c'è il difensore adesso. Bastardo. E coglia da... Prestazioni fantastiche signori. Non male. Tutti a... Bravo Brogna. Sono felice che abbia deciso di cedermi. Bene. Questo era l'entusiasmo con il quale stavi in squadra. Non mi sono mai trovato bene. Qui e credo che trasferirmi altrove sia la cosa migliore per tutti. Rispondi. Mi sto guardando intorno. Siamo d'accordo. Addio. Affanculo. Via. Guardi lì. Vogliono darmi un der più 2 milioni per Ter Nandez. Mandate a cagare. Ok. Giochiamo con il Borussia. Dai. Qui facciamo simulazione veloce. Vediamo subito il risultato. Sono bello carico per questa stagione. 1-1. 1-1. Bene. Ci sta. Borussia ha perso la prima con l'Everton di Carlo Ancelotti. Va bene. Va bene. Allora inizia questa partita. Peccato per il logo che è bruttissimo. Però la maglia è molto bella. L'attesa è finita. Si comincia. Vi ricordo che sto giocando con la modalità campione. Mamma mia. Mi faccio infinocchiare così subito. Non sto toccando palla. Direi un ottimo inizio. Magari potrebbe essere Calabria il primo del Milan che prende palla. Potrebbe essere lui. Potrebbe. No. Figuriamoci. Invece sì. Invece lui. Invece Calabria. Che se ne va sulla fascia. Teo Calabria. Teo Calabria. Ancora Teo Calabria. Indemoniato Teo Calabria. Rientra il passaggio dietro. Figuriamoci. Ma che cazzo fai sta Veronica? Non volevo fare quella roba lì. Ma che è sto schifo? Solo grandi emozioni in questa carriera di Brogna. Guarda lì dove la mette. I due si cercano. Si trovano. Assist di Ibra. E gola di Ante Rebic. Bravo. Bravo Calabrigno. Tonali. Esce palla al piede Tonali. Uh che bel pallone di Tonali per Ibra. Oh minchia quanto è lento Ibra. Minchia quanto è lento. Porca vacca se è lento. Infatti mi sono reso conto che era lentissimo. Cercò di passarla. Ma ormai era inchiodato. Nella realtà non è un fulmine. Ma non è neanche così lento però. Uh. No. Dove cazzo è passato questo? Ma dove è passato? Sì vabbè. 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 Dove cavolo è passato? Ma dai. Sarebbe stata meritata forse la vittoria. Mamma. Con questi pantaloni rosa ragazzi. Avete visto anche voi. Questo un pallone che fluttuava in aria. In chi è la prima partita. Già i bug ci sono. Vabbè. Simulazione veloce. Partita contro l'Everton. Quindi il Milan ritrova Carlo Ancelotti. E vince. Vince. Con un gol di Ibraimovic. E Frank. Che sì. Dove possiamo intervenire signori? Diciamo che secondo me un po' come nella vita reale servirebbe un esterno offensivo di destra. Un difensore destro. Un altro centrale. Oppure a sto punto facciamo appunto ne prendiamo uno che vada bene sia come centrale che come esterno. E poi un vice Ibra signori. Secondo me un vice Ibra serve. Ma in effetti perché Ouge e Dalot non ci sono? Cioè perché devo prenderli io manualmente e devo spendere soldi porca di quella lacca? Offerta per Alilovic signori. 3 milioni di euro. Ma io te li neanche tratto. Te lo do subito. Per 3 milioni di euro cedo subito. Accettiamo subito signori. Alilovic venduto. E qui ragazzi. Qui ci sta l'applauso. Eh ragazzi. La coppia Maldini-Massara colpisce anche sul gioco. A 3 milioni secondo me è tanta roba darlo via Alilovic. Allora simuliamo questa partita normalmente. Più che altro per vedere un attimino come funziona. Cioè quindi devo stare tutto il tempo così a vedere sta cosa. Non si può tipo velocizzare in qualche modo. Guarda lì Calabria. È scarso anche quando è una pallina. Incredibile. Mi sono già rotto le palle. Scendi. Ah c'è anche scendi in campo vero. No invece no facciamo. Vai al risultato. Basta. Prendiamo il risultato. 1 a 1. E perdiamo i rigori 4 a 3. Mortacci di rigori. Vogliono Andrea Conti. Mi danno Wilson Manafa. Vai che è Manafa. Volizzo sto Conti sì o no? Trattiamo. Vediamo chi è sto Manafa. È un terzino destro che vale 7 milioni signori. Quindi è più scarso di Conti. Benissimo. Mi danno 7 milioni più 5 milioni. Offerta onesta eh. Bisogna essere sinceri. Perché facciamo che gli togliamo il giocatore innanzitutto. E gli chiediamo il valore di mercato di conti. Né più né meno. 12 e 5. Avanziamo l'offerta. Hanno accettato. Hanno accettato. Hanno accettato signori. La squadra di John si è detta interessata a acquisire Matteo Gabbia con il seguente. A prestito. Io ragazzi io Gabbia lo do. In prestito lo do. A sto punto signori puntiamo a prendere qualcuno. Puntiamo a prendere qualcuno. Mi ispira da Gras Costa perché comunque è bello veloce come piace a me. Essendo io scarso devo puntare sulla velocità. Ma soprattutto siamo sicuri che può giocare anche a destra. Facciamo scambio. Vengono con qualcuno. Se abbiamo qualcuno. Vengono Castiglieco. Magari vogliono Castiglieco. Cacchio ne so. 20 milioni di euro più Castiglieco per Douglas Costa. Ok vogliono Castiglieco ma vogliono 29 milioni e mezzo. Rinnegozio solo qui. E gli invece di 21 gliene do 25. E vogliono 26. Come siete pignoli. Ma io sono più pignolo di voi. Quindi facevo 25 e 5. Ok ragazzi hanno accettato. Hanno accettato. 25 milioni e mezzo più Castiglieco per Douglas Costa. Vuole un ruolo cruciale. Vabbè 29 anni. Gli do 4 anni di contratto. Allora lo stipendio. Attualmente prende 120 mila euro. Se gliene do 100. 100 mila. Proviamo con 90 dai. Ora so già che mi manda a cagare. Già lo so. Già lo so. Non voglio vedere. Offerta equa. Offerta equa. Hanno accettato signori. Hanno accettato. Quindi Douglas Costa. È il primo rinnovo incredibile di questo Milan. Sono contento. Sono contento ragazzi. Già. Insomma. Avere Douglas Costa lì. Piuttosto che Castiglieco. Direi che è un passo in avanti. Mettiamolo subito in campo. Togliamo Conti. Che peraltro è con le valigie in mano. Eccolo qui. Douglas Costa. Peraltro. Considerando che lui in realtà. È più un esterno sinistro. Che un esterno destro. Possiamo a questo punto. Sfruttare quella nuova funzione. Che c'è per quanto riguarda. I giocatori. Quindi. Dobbiamo. Da quello che ho capito. Andare. Sull'hub della rosa. Andare. Dal signor Douglas Costa. Piano di crescita. Ok. Lui è alla sinistra. Lo mettiamo alla destra. Giusto? Ok. Comunque in teoria. Dovrebbe allenarsi per questo. Però mi ricordo che. Dovranno uscire tipo. Delle settimane. Per dire. Tipo. Ci vorranno 8 settimane. Per farlo diventare. Esterno destro. Due settimane. Ah. Lidl. Schittetà. Vabbè. Allora mica tanto. Dai. Ma. Questa roba qua. La posso fare anche per Calabria. E chiedergli. Di diventare un terzino destro. Ah. Non si può. No. Pensavo si potesse. Scusate. Intanto è stato ceduto. Andrea Conti. Per 12 milioni di euro. Ottima notizia. Intanto il Leicester. 13 milioni per Pachetà. Che ovviamente non sono tanti. Ma considerando che non rientra. Nel progetto tecnico. Del dottor Brogna. Faccio una bella trattativa. Cerco. Di spillare. 2-3 milioni di euro in più per Pachetà. Diciamo 16,5. Hanno accettato. Hanno accettato. 16 milioni e mezzo. Per Lucas Pachetà. Che va quindi a Leicester City. Offerta anche per Calabria signori. E a sto punto possiamo anche fare una cosa. Allora io inizialmente vi ho detto. Uno tra Conti e Calabria lo teniamo. E poi proviamo a prendere qualcun altro. Visto che di soldi noi ne abbiamo tanti. Ma se facessimo che vendiamo anche Calabria. Compriamo un bel difensore destro. E come vice c'è Calulu. Ma madonna che brutta Ancelotti. Ma com'è? L'hanno fatto bruttissimo. Allora 12-7 più la clausola. Allora la clausola non la voglio. Non mi inter... Voglio i soldi subito. Tiri i negozi. È il tutto. Invece 17 faccio 16. E 5. Fammi un cenno. Alza un sopracciglio. Ti prego. Il signor Carlo Ancelotti si è eccitato. Perché si è visto che si è alzato. Ha avuto un'erezione del sopracciglio sinistro. Dai proviamo Danfris. Proviamo prima Danfris e poi magari Aurier. Offerta del cartellino. 13 milioni. Però l'importante è che se ti sembrano pochi. Non ti alzi e te ne vai. Ti chiedo gentilmente. Proviamo Aurier. Siamo qui con Murigno. Che mi sembra particolarmente tranquillo quest'oggi. Proviamo 20 milioni. Attenzione. Attenzione. Colpo di scena. Si accontentano di 14 e 3. Ma vogliono anche Musacchio. Cavolo è interessante sta novità su FIFA. È figa sta cosa qua. Ehi ragazzi sono tentato. Non dico di accettare subito ma. Ovviamente cercherò di abbassare. L'offerta del cartellino. Però è interessante sta cosa qua. Rinegozio. E te ne do 10. Vabbè secondo me ci sta. Musacchio non lo voglio vedere neanche in cartolina. Quindi anche qui sono riuscito a cedere un giocatore che non mi interessava. E ho preso. Ho preso anche se ancora devo trattare. Un ottimo esterno destro. Difensivo. Un ruolo cruciale. Oh che bello quando fanno tutto l'oro. Ma sì dai abbassiamogli solo. Ok ragazzi. Sono riuscito a risparmiare quei 6-700 mila euro così a caso. Signori. Abbiamo l'esterno di destro. Incredibile. Calabria venduto intanto. E quindi il budget trasferimenti aumenta a 43 milioni. Secondo me senza sperperare troppo i soldi possiamo migliorare. Vi dirò non tanto forse la squadra titolare quanto le riserve. Cavolo come si chiama quello? C'era un centrocampista che voleva il Milan quest'estate che si era parlato di lui. Somare. Somare. Vediamo un attimino lui quanto voglio. Perché sono curioso di... Nella vita reale mi piace. Ora non so qui che valori abbia. Ovviamente proveremo a mettere come contropartita Kroonich. Sarebbe un sogno se accettassero Kroonich. Non so quanto aggiungere di soldi. Non ho idea quanto possa costare. Somare. 7 milioni in più. Ci dice subito che non vogliono Kroonich e quindi so fregato. Vogliono la XAT. Ma è un sogno sto gioco. Ma è bellissimo. No io non accetto per principio nel senso che voglio abbassare un po' il cartellino. Ai 5 più la XALT vogliono la clausola del 10%. Ma non romper i coglioni. Perché so già che ora si incazza. La facciamo 6 e mezzo su. Hanno accettato. Hanno accettato signori. Ragazzi io sono contento. Perché la XALT era un altro con le valigie in mano. Però ragazzi non voglio prendermi tutti i meriti. Perché in realtà sia per quanto riguarda la trattativa con Mourinho. Sia per questa sono stati loro a farsi avanti e a dire vogliamo un musacchio. E vogliamo la XALT. Quindi i meriti me li prendo fino a un certo punto. I bonus sui gol. Ma non segnerà mai tanti gol. Modifica bonus. Mettiamo 5 gol in più. E bonus di ingaggio. Facciamo 150.000 invece di 180.000. Ok ragazzi. Hanno accettato. Sommare. Sommare. E' il nuovo centrocampista del Milan. Direi che tanta qualità. Tanta qualità lì a centrocampo signori. Cioè abbiamo Sommare. Tonali. Ben Asser. E Chessi. 4 per 2 posti. Molto molto bello. Adesso però ci serve un vice. Te Fernandez. Per forza. Perché là dietro siamo scoperti. Ciao belli. Grazie. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.